cosa hai fatto? perché sei uscito con questa? perché devo ancora passare la sicurazione di questa su quell'altra ma tu non hai ancora capito che diventano invidiosi una con l'altra quando tu compri quella nuova quella vecchia ti dà out subito infatti infatti è andata basta è sempre stato così ragazzo mio meno male che solo quello però è normale mi dice tu prendi l'altra basta quella vecchia devi metterla lavarla lasciarla lì perché se non è taciula è già buona che sei arrivato a casa eh guarda ero alla pinetta quando ero alla pinetta ho detto qui c'è qualcosa che non va perché mi allungava la frenata perché facendo così mi spostava le pastille dall'altra parte chiaro andata va bene ti ho dato al pietro non a te perché io vado a casa e io ho tagliato perché c'è qualcosa che non va eh sì te l'ho quasi l'ho usato fuori andato bravo e non eri neanche chissà dove quindi va bene così